A seguito della richiesta di voler incontrare il sindaco di Roseto Mario Nunez, espressa dalle rappresentanze sindacali della Salpa, la società agricola consortile nata nel 2015, fornitore esclusivo di filiere di industrie, rolli, alimentari, SPA, gruppo leader nella produzione e commercializzazione di prodotti surgerati, il primo cittadino ha annunciato che l'incontro richiesto si svolgerà domani in Comune, in modo da avere il prima possibile un quadro più dettagliato della preoccupazione espressa dall'RSU per l'attuale situazione occupazionale dello stabilimento di Roseto. Ovviamente noi ci mettiamo in ascolto sapendo che è un tema molto delicato, bisogna approfondire, bisogna conoscere i numeri, bisogna conoscere i dati e poi bisognerà, credo, in un momento successivo anche creare dei ponti e dei tavoli di confronto. In questa fase, avendo richiesto al primo cittadino la vicinanza, come ho sempre fatto in questi nove mesi di amministrazione, è stata mia premura in poco più di 24 ore di dare una disponibilità a dei rappresentanti, dei lavoratori, di un'izienda che rappresenta il centro, ma soprattutto una grande storia e una grande opportunità per il nostro territorio. E noi vogliamo che rimanga tale anche nel futuro. Al centro della questione ci sono i posti di lavoro? Al centro della questione, leggendo dalla nota breve ma sicuramente molto centrata, ci sono degli accordi fatti, tra l'altro in passato, quando la mia amministrazione non c'era, c'è certamente la preoccupazione per il calo di ore sia degli stabili ma anche degli stagionali, c'è una preoccupazione che a mio avviso è amplificata anche dalla preoccupazione e dello stato d'ansia sociale che viene portato a livello nazionale da tante tematiche, quindi mi rendo conto che chi poi si trova a lavorare non riesce, è disorientato rispetto a quelle che sono delle dinamiche più grandi di loro. Allora oggi le istituzioni, il primo cittadino non può che mettersi al tavolo, sedersi, ascoltare prima di tutto per poi insieme trovare delle soluzioni.